Cat Tortora ancora nella bufera. Sabato scorso la notizia di una nuova dirigenza annunciata con toni entusiastici dal direttore sportivo fresco di nomina della società Antonio De Filippo aveva fatto tornare il sereno. Scongiurata l'esclusione della squadra dal campionato di promozione 2011-2012, presidenza affidata ad una giovanissima donna, Maria De Francesco, classe 1982, e la nomina dell'allenatore Damiano Tripodi, queste le tre notizie succulente dettate dal DS del CAT Antonio De Filippo. Stamane la doccia fredda. Il commissario della società calcistica Tortorese in carica, Francesco Gentile, blocca l'entusiasma e dichiara «Quanto nato non ha valore, va smentito. Sono io il commissario in carica», dice Gentile, eletto da una regolare assemblea. «Non sono dimissionario e soprattutto non sono stati interpellato. Chi ha fatto questa cordata sia appropriato di un nome». Insomma, per il commissario Gentile qualcuno, in maniera frettolosa, ha fatto i conti senza l'oste. Rimane inoltre ufficiale la richiesta di esclusione del CAT Tortore dalla Coppa Italia e dal campionato di promozione, richiesta che lo stesso Gentile sottolineò come irrevocabile nella missiva inviata al Comitato regionale. Nella stessa lettera Gentile chiedeva l'ammissione della squadra al campionato di seconda categoria, sollecitando, altresì, il tempestivo riscontro a questa richiesta. Situazione altalenante, quindi, per il CAT Tortorea. All'orizzonte una società che deve partire da zero, come ha dichiarato il direttore sportivo Antonio De Filippo, ma che ha ancora tante ferite da rimarginare. Ed ancora, nel caos generale, le certezze stentano ad arrivare.